Del caporalato, quindi del sistema illecito di reclutamento per lavoratori agricoli stagionali sottopagati, sfruttati, le cui condizioni sono ben lontane da quanto prevede la legge per le tutele dei lavoratori agricoli, si torna a parlare ancora una volta a Caltanissetta, nel centro Sicilia. Chi sul territorio ha da due anni cercato di svolgere un'azione di sensibilizzazione sul tema è il Movi, che all'interno della Casa delle Culture e del Volontariato, ogni giugno, in ricordo di Adnan Siddiq, svolge un incontro con istituzioni e cittadini. Proprio il Comitato Giustizia per Adnan nacque in modo spontaneo come risposta della città all'efferato omicidio del giovane operaio Tessile, che per aver aiutato i suoi connazionali a denunciare fu assassinato in via San Cataldo a Caltanissetta. Senza dubbio è un risultato ottimale, ci può fare solamente felice a una risposta che ci conforta e praticamente dobbiamo dire un applauso grande alle forze dell'ordine, perché la Casa è stata sempre presente e si è occupata da tempo di questa realtà. E senza dubbio noi siamo proprio la voce degli immigranti che subiscono di questa ingiustizia a tutti gli effetti. Noi ascoltiamo, sì, ci sono stati momenti particolari, infatti lo scorso 17 giugno abbiamo fatto il secondo anno della commemorazione di Adnan, proprio per tenere viva questa situazione. E non solo, ma noi ascoltiamo ancora un po' le lamentele dei ragazzi che vengono cercati per questo tipo di attività. Noi cerchiamo di contenere, ma non solo, noi siamo stati anche invitati in varie realtà, dove ci hanno invitato proprio a parlare in altre province di questo caprolato. Quindi questo per dire che la Casa è sempre in prima linea su questo e lo dimostra il fatto che stiamo seguendo proprio tutti i passaggi del processo che si sta svolgendo a Cattanestetta e nell'Aula Bunger per il processo per l'uccisione di Adnan. Perché la Casa Cultura del Brondriato e i Movi in prima linea sono parte civile di questa battaglia. Il Movi ad oggi continua a seguire la vicenda ed è all'interno del programma Supreme Italia, sud protagonista nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle cinque regioni meno sviluppate, tra cui la Sicilia.